10 motivi di come nutrire il tuo fabbisogno di dolce e guarire nello stesso tempo. Una delle domande che mi pongo è se abbiamo bisogno di integratori alimentari. Dopo aver fatto una ricerca e dopo aver pensato alla mia risposta, penso che sì, il nostro corpo ha bisogno di integratori alimentari e se non li otteniamo dal cibo crudo lo otterremo da pasticche integratori alimentari perché il nostro corpo ha bisogno di vitamine e di antiossidanti per essere in grado di guarire da solo e per andare avanti. Così, juicing o spremitura di frutta e verdura rimane uno dei più sani metodi per dare al nostro corpo tutti gli integratori alimentari naturali di cui ha bisogno. Bere succo spremuto da frutta e verdura offre il beneficio di avere concentrato di vitamine, minerali ed enzimi che entrano rapidamente nel flusso sanguigno dando al nostro sistema digestivo il tanto ricercato riposo. Allora, cominciamo con i dieci motivi. Il motivo numero dieci. Le proprietà curative. Il cibo è la tua medicina e la tua medicina è il cibo. Persino Ippocrate lo diceva. Juicing, la spremitura di frutta e verdura a freddo consente di creare prescrizioni specifiche per le nostre esigenze uniche da malattie malattie cardiache, il cancro, l'ictus per aumentare l'energia, la forza, l'immunità per rendere le ossa forti o per avere del bel colorito. Combinando della frutta e della verdura permettiamo al nostro corpo di assorbire le vitamine, i minerali per aiutarlo di guarire più velocemente. Il motivo numero nove. Il juicing o la spremitura di frutta e verdura consente di assumere una grande quantità di frutta e verdura che non può essere mangiata in forma cruda perché il volume della frutta e della verdura è molto importante permettendo al nostro corpo di assorbire più vitamine ed enzimi quasi istantaneamente. Motivo numero otto. Gli antiossidanti. Gli ingredienti di frutta e verdura sono carichi di antiossidanti che lottano contro i radicali liberi che causano danni cellulari, invecchiamento cellulare e ci rende suscestibili al cancro. Il motivo numero sette. La pulizia e la disintossicazione del corpo. Il succo di frutta e verdura fresco è noto per liberare il corpo dalle tossine attraverso la pulizia del tratto digestivo e del colon permettendo al metabolismo di diventare più efficiente. Motivo numero sei. La clorofilla. La clorofilla si trova solo nelle piante con la sua struttura unica aumenta la capacità del vostro corpo di produrre emoglobina che a sua volta rafforza la consegna dell'ossigeno alle cellule apportandoci più energia. Motivo numero cinque. Il juicing, quindi la spremitura mantiene i micronutrienti. Quando si cucina il cibo i micronutrienti del cibo vengono alterati rendendoli più difficili da assorbire. La frutta e la verdura cruda contengono micronutrienti che vengono mantenuti durante la spremitura soprattutto quando si utilizza uno spremiagrumi o meglio estrattore di succo a freddo come quello che utilizzo io della marca Slow Star. Motivo numero quattro. L'idratazione. Il nostro corpo è composto da acqua dal 50 all'80% a secondo della nostra età. Le nostre cellule richiedono idratazione per il corretto funzionamento. Il succo crudo fornisce l'acqua necessaria per riempire il liquido perso dal corpo facendo delle attività fisiche oltre a dare vitamine, minerali e enzimi fitochimici. Motivo numero tre. Alcalinità. La spremitura favorisce un ambiente alcalino nel nostro corpo. Se il nostro corpo è acido e la maggior parte delle volte lo è perché la gente segue una dieta basata sulla cucina tradizionale standard quindi avrà questo ambiente acido nel corpo e questo ci rende predisposti alle malattie, lo stress e il dolore. Un ambiente alcalino dall'altra parte promuove una migliore funzione immunitaria una migliore energia riduce il dolore e l'infiammazione e rallenta i segni dell'invecchiamento. Motivo numero due. Migliore assorbimento dei nutrienti. Molti adulti hanno il sistema digestivo indebolito dai disturbi digestivi come reflusso acido, ulcere, calcoli migliari, intolleranza al lattosio, diverticolite, malattia infiammatoria, celiacchia, stitichezza, la malattia del Crohn o colite. Quindi come risultato i nutrienti possono passare fuori dal nostro corpo velocemente attraversandolo solo senza assorbire niente. Invece con il succo i nutrienti sono predigeriti. L'estrattore di succo fa la digestione per voi spezzando le pareti cellulari di verdure fresche e frutta in modo che il vostro corpo può assorbire i nutrienti proprio come una spugna. Allora, il motivo numero uno. The last one. La facile assimilazione. Perché la spremitura rimuove le fibre, riusciamo a saltare quel lungo processo digestivo di una o due ore che non abbiamo bevendo succhi spremuti da frutta e verdura fresca. Vanno a nourire le cellule all'incirca 15 minuti, quindi molto velocemente. Questo dà al nostro corpo un riposo dal processo di digestione ad alta intensità di lavoro e ci dà più energia per la nostra attività fisica, la disintossicazione del nostro corpo, la pulizia o il recupero da una malattia. In definitiva, questo consente di assorbire gli enzimi fitochimici, vitamine e minerali più facilmente. Un consiglio bonus? Se anche voi come me sostituite un pasto al giorno con succhi spremuti da frutta e verdura fresca, avrete i capelli più sani e la pelle più luminosa. Quale sarebbe per voi il motivo numero uno per rimpiazzare un pasto al giorno con il succo spremuto da frutta e verdura? Scrivetelo qua sotto nei commenti! Se gradite questo video non dimenticatevi di abbonatevi al mio canale, accendere il campanello e mettere un pollice in su!